Pronto, chi è? Ciao Franco, sono io, Patrizia. Caro, scusami del ritardo, ho avuto da fare. Cos'è? Forse credevi che avevo dimenticato l'anniversario del nostro fidanzamento. Per favore, vorrei salire. Mi apri il portone del palazzo? Sì, subito, Patrizia. 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 Sì, subito. Sì, subito. Patrizia. Patrizia. Sì, subito, Patrizia. 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 Grazie a tutti.